Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu, chi sei? Egli confessò e non negò, e confessò. Io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Esaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni Battista rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Parola del Signore. Deve essere veramente significativa la presenza di Giovanni Battista. Se la Chiesa per due domeniche, in questo periodo di avvento, ce lo mette davanti come figura, significativa quindi, orientativa dunque. Giovanni Battista è la voce. Se ne ha parlato Marco la settimana scorsa, adesso la Chiesa ha scomodato addirittura, tra virgolette scomodato, vero? L'Evangelista Giovanni, tra parentesi, quando si parla dell'Evangelista Giovanni, non si dice la stessa persona di Giovanni Battista. Giovanni Battista è l'amico di Gesù, scelto da lui, mentre invece Giovanni Battista è colui che ha preparato la venuta di Gesù, il Messia. Oggi abbiamo l'Evangelista che parla del Battista. Ed è bellissima la presentazione di questa figura, ed è attualissima anche. Innanzitutto ci sono due parti in questo Vangelo. Una prima parte possiamo definirla così, da Dio, e lo dice proprio l'Evangelista annotandolo, da Dio. Mentre invece la seconda parte risalta la parola da Gerusalemme. Capite allora già che c'è un salto di qualità. È un uomo mandato da Dio. E allora lì dobbiamo prestare attenzione. Ma poi da Gerusalemme vogliono sapere chi è. E quando si intende la parola Gerusalemme si intende l'istituzione di allora, l'istituzione religiosa. E nel Vangelo di San Giovanni qua c'è tutta una connotazione molto problematica, se non addirittura negativa. Ma allora cominciamo. Venne un uomo. Che bello che è quando c'è un uomo. Vuol dire anche una presente, una persona. Che bello quando possiamo guardare negli occhi qualche di uno e dire, te si in uomo, te si in adona. Vuol dire posso fidarmi di te. Mentre invece quando guardiamo negli occhi qualche di uno e non vediamo l'anima, non ci fidiamo. E allora, se si puoi parlare, puoi dire quello che vuoi tanto. Venne un uomo, volete che ci lo auguriamo, di trovare degli uomini autentici nel nostro cammino, delle donne di cui fidarci. Venne un uomo, mandato da Dio. E quindi dà una caratterizzazione ancora più rilevante, un peso a questa creatura, mandato da Dio. Il Signore stesso si è scomodato perché c'era bisogno di uomini autentici. E questo Giovanni doveva essere veramente autentico per preparare le persone ad accogliere colui che stava per venire, il Messia. Colui che stava per venire. Anche noi, sapete? Credo che siamo anche noi su questa strada. Ma se i nostri figli trovassero in noi degli uomini, delle donne autentici, mandati da Dio, per l'amor del cielo. Oggi mancano queste figure di riferimento. E dobbiamo andare in cerca nella Bibbia o dobbiamo andare in cerca nel passato. Ma se ne fossero anche il presente, ve lo auguro, che nelle vostre case ci siano uomini, donne, mandati da Dio. Mettete voi adesso il peso di queste parole. Mettete il peso dell'onestà. Mettete il peso della responsabilità. Mettete il peso della generosità. Mettete un'intelligenza non solamente che fa le cose del proprio interesse, ma pensa agli altri, al bene, alla crescita, di quella famiglia, di quella società. Che bello che c'è quando c'è un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. La parola Giovanni vuol dire Dio e misericordia. Se ne fosse un po' anche quest'oggi di misericordia. Un uomo mandato da Dio, cui nome era misericordia. Dio e misericordioso. Dai, portatevelo a casa. E questo nome usatelo nelle vostre case. Fatelo circolare proprio. Se ne sia a bizzeffe. Egli venne come testimone per dare testimonianza. E adesso andiamo avanti. Non è solamente un uomo, ma è un testimone. E capite, no? Il testimone è colui che è cambiato da ciò che ha visto. Si è incontrato. Ha incontrato la verità. E quindi è stato cambiato da lì dentro. E allora può testimoniare. Che bello se i nostri figli possono guardare in noi e vedere dei testimoni cambiati dalla verità. E perché no? Cambiati da Dio. Cambiati da un incontro con il Signore. Da un Vangelo che diventa sempre di più significativo. Un Vangelo che diventa sempre di più fonte di beatitudine. Beati, beati, beati. Venne un uomo mandato da Dio testimone. E poi riesce a dare testimonianza alla luce. E questa luce è Gesù. È Lui che illumina. Perché? Mamma mia, quante tenebre. Quante tenebre. Ci vuole una luce anche ai nostri giorni. Ma non la vedete? Non la vedete questa luce? E non vedete quante persone la stanno cercando. Magari i vostri figli, i nostri figli stanno cercando questa luce. Allora magari la troveranno certo da soli. Perché quella luce dipende dalla responsabilità di ciascuno di trovarla. Ma anche dipende da testimonianze vere. Io, tu, dobbiamo essere testimoni di questa luce. E i nostri giovani non potranno essere illuminati da questa verità, da questa luce che risplende, se non hanno anche delle indicazioni. Quante tenebre. Dai, dai che risplendiamo come testimoni della luce. Questa testimonianza è quella di Giovanni. Quando i giudei adesso entrano in campo. Entra in campo la seconda parte. Dopo la presentazione dell'uomo da Dio, adesso comincia da Gerusalemme. E quindi cominciano i problemi. I giudei non accettano questa testimonianza. Anzi, sono terrorizzati. Perché? Non l'hanno autorizzato. Loro erano i possessori della verità, si ritenevano tali. E quindi, come permettere che uno parli senza l'autorizzazione. E ricordate, domenica scorsa, non era in città, non era a Gerusalemme. Ormai Gerusalemme era morta. Lui è nel deserto. E com'è che nel deserto la voce di Giovanni si sente? E' chiaro, è ritornato là, nel luogo dove il popolo si era costituito. Là c'era l'autenticità del popolo. Aveva passato il fiume Giordano, perché quella non era più la terra promessa. E allora là nel deserto, con la sua autenticità, la sua voce si innalza. E tutti la possono ascoltare. E' la voce di Dio. Anche se Gerusalemme aveva cercato di soffocare quella voce, di toglierla. Però c'è bisogno di autenticità. E quando c'è autenticità, può essere anche nel deserto, si va a cercare. Perché c'è bisogno di questo, c'è bisogno della verità. E guardate, tu chi sei? Che domanda strabiliante. Semplice, ma strabiliante. Tu chi sei? E poi sarà completata. Che cosa dici tu di te stesso? Ve la fate mai questa domanda voi? Non è una domanda ottiosa o filosofica, sapete. Ma credo che tutti quanti, prima o dopo, ci mettiamo allo specchio, davanti a noi stessi. E ci chiediamo, ma chi sono io? E questa domanda è come se ce la rivolgesse l'altro, l'altro, l'altro. Dio stesso, tu chi sei? Perché delle volte ci nascondiamo. C'è allora un qualche cosa di autenticità che deve uscire da noi stessi. Perché delle volte, purtroppo, non c'è più autenticità, non c'è più verità. Andiamo dietro all'andazzo comune, facciamo tutto quello che gli altri fanno. E allora ci perdiamo, ci perdiamo, ci perdiamo. Tu chi sei? Uomo chi sei? Donna chi sei? Che cosa dici di te stesso? Facciamocela questa domanda. Mettiamoci nudi di fronte a noi stessi. Ma come va la tua vita? Che cosa stai facendo? Che strada stai percorrendo? Com'è che stai impostando la tua esistenza? Da che parte stai andando? Non sono domande oziosi, sapete, queste. E non sono solamente domande che albergano solamente in alcuni momenti della vita. E diciamo ai giovani, trova il senso della tua vita. Ma anche per noi adulti, tante volte, è importante che ce li rifacciamo. Se non ce li rifacciamo è perché ci siamo a suoi fatti, a un andato che però non ci dà pace. Lo sappiamo. Tu chi sei? Che cosa dici di te stesso? La risposta di Giovanni Battista è una risposta piena di verità. dice così, egli confessò e non negò e confessò, che vuol dire giura di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, dicalo giuro. Eccola qua. E allora nella verità piena Giovanni dice, non sono, non sono, non sono. Mamma mia, è un uomo questo qua. Perché la tentazione che tutti abbiamo qual è? Io sono, io sono, io sono. Non è vero che ci autopromuoviamo? Magari per un niente che abbiamo fatto ci mettiamo in mostra davanti a tutti e davanti a tutti. e invece Giovanni Battista ha il coraggio di dire, non sono il Cristo, non sono, non voglio, non... È un uomo che non ha bisogno dell'applauso, non ha bisogno di essersi autopromosso. Si mette di fronte alla verità per quello che lui è, servitore della verità. E' un uomo che non ha bisogno di essere messi sul palco per essere applauditi. A giorno d'oggi si fa tanto questo, no? E noi genitori soprattutto li mettiamo sempre per aria. Finché non cadano giù, poveretti, si rompono il naso. Perché questa è la sorte di quasi tutti. Giovanni Battista è l'uomo autentico, fino in fondo. Che cosa dici di te stesso? E allora quando parla al positivo, dopo aver detto non sono, non sono, non sono, dice sono una voce. Sono colui che indica, prepara, orienta. E raddrizza le strade che si sono storte, purtroppo. Raddrizzatele anche voi. Raddrizzatele. Perché avete contribuito a renderle fuorvianti. Raddrizzatele. E allora lì si trova una possibilità di cammino. Un cammino autentico. E dirà poi, io battezzo nell'acqua. Che vuol dire, io faccio sommergere, io proprio tolgo quello che è un passato, lontano da quello che è l'autenticità, la verità. E quindi do la strada, la possibilità di conversione per trovare se stessi e quindi per trovare Dio. Fatelo anche voi. Credo che in questo cammino ci sia veramente un'indicazione bella anche per noi. Il Dio viene. Il Dio che viene ci trovi autentici. Non con una voglia di essere chissà chi e di promuoversi, ma con una voglia di essere autentici. Tu che dici di te stesso? Buon cammino a te.